Una gita in treno. Oggi Madame Gazzella porta Peppa e i suoi amici a fare una gita in treno. Undici biglietti per favore, chiede la maestra al capo stazione. Madame Gazzella si raccomanda, non perdete il vostro biglietto. Ma quando arriva il capo stazione, Pedro non trova più il suo. Per fortuna gli è solo caduto per terra. Arriva il treno, esclama Peppa. Ciu ciu, fa George. Tutti a bordo, dice la signora Coniglio, che è la macchinista e conduce il treno. La maestra dà una scheda ai suoi alunni. Accanto a ogni figura devono segnare quello che vedono. Sulla scheda ci sono una barca, un segnale ferroviario e una galleria. A Peppa piacciono le gite in treno e anche le schede della maestra. Peppa e i suoi amici guardano fuori dal finestrino, ma per un po' vedono solo alberi e nuvole. Ecco una barca, finalmente! È la barca di nonno cane, che saluta allegro. Ehi là ragazzi! Ora gli alunni possono spuntare la barca sulla scheda. Pedro Poni non si sente bene. Per distrarlo, la macchinista gli fa guidare il treno per un po'. Che emozione! All'improvviso il treno si ferma. Deve far passare la signora Anatra e i suoi parenti. Quello è un segnale ferroviario, esclama Peppa. Evviva! Dopo la barca e il segnale ferroviario, per completare la scheda, manca solo la galleria. Ah, eccola qui! Quando si passa in una galleria diventa tutto buio. Il treno arriva in stazione, la corsa è finita, la gita è piaciuta a tutti e Pedro ha anche trovato un posto sicuro per il suo biglietto. Fine Fine